Gli arroganti siete voi, che pensate di sapere tutto dei vostri figli. Il giorno te lo compro io, il ristorante. Te lo compro io, giuro. Ho bisogno di un padre che mi rispetti per quello che sono e quello che voglio fare. Tutti noi abbiamo dentro quel dolore, mamma. Ma almeno noi ci proviamo a continuare. Tu pare che è a seconda su tutto. Anche perché da quando tua madre non c'è più, non vuole farti soffrire. Cosa stai dicendo? Che succede, ragazzi? Problemi? Perché mi parli così? Perché mi tratti come un bambino, come uno senza carattere? Lascimi! Hai spento te per creare l'atmosfera? No, no, hanno proprio staccato la luce. Tutte le attività extrascolastiche saranno sospese. Qualunque cosa succeda, non mollare mai la musica. Chiaro? E ora, ragazzi, si fa sul serio. Oh, ma mio figlio poteva rossirci una gamba. Fategli fare ginnastica e ritmica. Come sono? Il tacco non è purtroppo. Passo. L'anno scorso c'avevi insufficienza in tutte le materie. E quest'anno sono in cinque. Montiamoci la testa adesso, eh. Si continua insieme. E chi se ne frega delle consulmenze. Dai, sempre, la tappa. Dai, ma che fate? Sì. Dai, ma che fate?